L'antica razza delle vacche rosse arriva nelle nostre zone con le invasioni barbariche dell'anno 1000. Il parmigiano reggiano delle vacche rosse, quindi il parmigiano reggiano nasce con il latte di vacca rossa circa otto secoli fa nelle abbattie benedettine delle nostre zone, quindi possiamo sostenere che la vacca rossa è la mamma del parmigiano reggiano, all'epoca era l'unica razza, è la razza più antica. La frisona arriva molto dopo, quindi per un lungo periodo questo prodotto veniva realizzato con il latte di vacca rossa. La vacca rossa che appunto all'epoca produceva il parmigiano reggiano poi ha rischiato l'estinzione perché ovviamente è una razza molto meno produttiva della frisona, quindi produce circa un terzo di latte in meno. Nei secoli ovviamente in un'ottica di maggiore additività l'uomo ha deciso di smettere di produrre il parmigiano reggiano con questo latte e di iniziare a produrlo con il latte di frisona, la frisona produce molto più latte della vacca rossa. Cos'è successo? La vacca rossa ha rischiato l'estinzione, negli anni 80 ne erano rimasti circa 600 capi. Quindi il consorzio vacche rosse nasce all'inizio degli anni 90 innanzitutto in un'ottica di biodiversità, quindi per salvare questa razza che stava rischiando l'estinzione. Poi questo gruppo di allevatori, particolarmente lungimiranti, decise di ricominciare a produrre il formaggio come appunto si faceva otto secoli fa e quindi nasce, rinasce diciamo la produzione di parmigiano reggiano. Noi siamo composti circa da una trentina di soci allevatori. La produzione in generale del vacche rosse si assesta intorno alle 14.000 forme all'anno contro i 5 milioni circa del parmigiano reggiano convenzionale. Quindi siamo una nicchia, siamo un po' una goccia nel mare rispetto alla produzione di parmigiano reggiano e ci caratterizziamo per un disciplinare specifico, quindi i nostri allevatori devono seguire questo disciplinare che impone loro l'utilizzo di erba verde pieno e cereali tassativamente non OGM. Quindi per noi il benessere animale è prioritario, cioè partiamo da un animale che vive bene, che vive a lungo perché molti dei nostri animali arrivano anche a 11, 12, 13 anni, fanno meno parti della frisona e diciamo che per noi l'attenzione che mettiamo al benessere dei nostri animali è fondamentale. Prima di tutto tengo a precisare che il parmigiano reggiano, anche quello convenzionale, fatto con il latte di frisona è un'eccellenza conosciuta in tutto il mondo. Quindi un prodotto naturale, fatto solo con sale, latte e caglio, così come ovviamente il nostro. La tipologia produttiva è la medesima, quindi lo stile produttivo è lo stesso. Quello che cambia è il latte e quello che cambia sono le caratteristiche, diciamo, del latte. Quindi il latte di vacca rossa è un latte che contiene una caseina specifica che si chiama caseina KBB che è in grandi quantità in questo latte ed è quella che dà una particolare dolcezza, diciamo, al prodotto. Quindi è un prodotto che è un latte che, diciamo, ha un'ottima resa, come noi diciamo, nella caseificazione. Quindi un latte che si adatta molto alle alte stagionature. Questo è il motivo per cui il vacca rossa, a differenza del parmigiano reggiano convenzionale, viene messo sul mercato e quindi è pronto alla vendita a partire dai 24 mesi di stagionatura, non prima. Questo è appunto grazie anche a questa caseina KBB che è molto importante. Abbiamo tantissimi turisti veramente da ogni parte del mondo. Quest'estate abbiamo avuto un po' l'invasione degli americani, è stata l'estate degli americani, ma in generale da tutti i paesi europei e extra-UE siamo presi d'assalto perché naturalmente tutti sono interessati a capire come nasce questo formaggio conosciuto in tutto il mondo. In particolare questa razza, diciamo, desta molto l'attenzione dei turisti.